Su cosa si è concentrato il vostro lavoro nelle ultime ore? Quali sono i sospetti, gli indizi a carico del fermato? Il lavoro sin dai primi momenti della scoperta del cadavere da parte dell'ipote, dell'anziana signora, si è concentrato ovviamente su tutti gli elementi che in caso di omicidio la Polizia di Stato va a valutare. In particolar modo abbiamo valutato sia le dichiarazioni dei vicini di casa che magari potevano aver sentito o udito qualcosa come un litigio o aver visto qualcuno entrare e uscire da casa, ma come ovviamente di consueto facciamo abbiamo analizzato tutti i sistemi di videosorveglianza pubblici e privati della zona di interesse dell'omicidio e poi chiaramente allargandoci anche nelle zone più periferiche. Le indagini si sono concentrate sin da subito sul soggetto che abbiamo fermato, che è l'ex marito della donna, in considerazione del fatto che i propri parenti, in particolar modo il nipote convivente dell'anziana, ha riferito comunque di avere forti sospetti in quanto i due litigavano da tempo. Le poi contrastanti dichiarazioni rispetto alle prime fornite nell'immediarezza dei fatti quando l'abbiamo fermato, ovvero neanche dopo 20 minuti dal riminimento appunto del cadavere, perché gli uomini della squadra mobile e della squadra volanti si sono subito prodigati per andare a individuare il soggetto dove poteva comunque aver trovato rifugio ed effettivamente l'abbiamo trovato nei pressi dell'abitazione della madre, dell'anziana madre diciamo con la quale lui ogni tanto appunto viveva. Da lì siamo concentrati su questo e poi il pubblico ministero, la dottoressa Bisello, ha inteso comunque interrogarlo, considerati già i gravi indizi col prezzo a suo carico. Lui ha reso delle dichiarazioni, anche in questo caso comunque contrastanti rispetto a quanto comunque la Polizia di Stato aveva già raccolto. All'inizio mancava un momento e anche l'arma non era stata trovata? L'arma non è ancora stata trovata ma perché è un oggetto contundente, purtroppo diciamo in questi casi ce ne sono centinaia di migliaia, quindi non è semplice individuare la tipologia di oggetto. Ancora l'esame autoptico dovrà essere fatto perché per legge insomma sono dei tempi tecnici e le garanzie difensive, quindi questo nei prossimi giorni ovviamente potrà chiarire meglio il medico legale. Però nel contempo diciamo noi abbiamo raccolto degli indizi di colpevolezza tali in questo momento da fermare un soggetto che è gravemente sospettato di aver commesso il reato. Il momento sarà sicuramente quello economico? Non abbiamo certezza di questo, sicuramente ci sono stati dei dissidi, comunque c'erano dei dissidi tra i due anche per motivi economici, ma non sono soltanto questi anche perché la persona che abbiamo fermato era particolarmente provata, quindi le dichiarazioni non erano poi corrispondenti a quanto poi abbiamo raccolto anche da parte dei familiari. Una famiglia molto unita, i fratelli sono molto uniti tra loro ma c'erano dei contrasti con il padre. Emerge chiaramente che la persona invece che è stata uccisa è una bravissima donna che aiutava gli altri, non aveva alcun tipo di contrasto, non aveva alcun tipo di vita, una vita irreprensibile rispetto ovviamente di un eventuale fumus e anche questo reato così grave possa essere stato commesso da altri, oltre al fatto comunque che noi siamo certi che il soggetto che ha commesso il reato era proprio l'indagato perché in quel momento in casa c'era solo lui. Grazie a tutti.